Ciao carissimi, come sapete in Ucraina la guerra diventa sempre più pesante, sempre più difficile, soprattutto per gli ucraini, mancano le armi, in alcune zone mancano le munizioni, mancano disperatamente gli uomini, noi sappiamo ormai anche dalle pubblicazioni che escono nei giornali occidentali, purtroppo questo non avviene in Italia, ma nei paesi un po' più liberi, un po' più democratici, diciamo un po' più pluralisti dell'Italia, dove il giornalismo ha ancora qualche margine più libera, noi vediamo che ci sono degli articoli dove le cose vengono presentati per quelle che sono e la guerra in Ucraina è entrata in una fase di stallo per gli ucraini, mentre i russi lentamente si avanzano in alcune direzioni, io già vi ho spiegato in diversi video che si tratta non di una vera e propria avanzata a larga scala, una vera e propria offensiva, si tratta soltanto delle operazioni nei quali i russi cercano di conquistare le parti più favorevoli, diciamo migliori dal punto di vista strategico del fronte, per avere più dominio su quelle che sono le posizioni degli ucraini, poi in alcune zone abbiamo visto che ci sono vere e proprie battaglie per conquista dei grandi capisaldi, come ad esempio a Davdevka, oppure attorno a quello che una volta era Bakhmut, adesso si chiama Artyomovsk, noi abbiamo visto che ci sono stati liberati alcune importanti posizioni, io ho pubblicato questa notizia l'altro giorno sul mio canale privato Telegram, tra l'altro se volete ricevere le notizie da Ucraina abbastanza in tempo, notizie che non vi racconteranno i nostri giornali, io vi invito di fare abbonamento al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo video. In Ucraina quindi noi vediamo enormi difficoltà, ci sono le notizie molto drammatiche ma ci sono notizie anche, per fortuna forse, un po' umoristiche che ogni tanto ci aiutano anche a ricordare che in ogni aspetto anche più drammatico, c'è sempre il destino fa sempre accadere qualcosa di ironico, così purtroppo accade, purtroppo per fortuna e c'è sempre spazio a qualche ironia. Così ad esempio io altro giorno ho pubblicato la notizia sul mio canale privato Telegram, una notizia legata a una nuova svolta nella mobilitazione che avviene in Ucraina. Voi sapete cari amici che in Ucraina ci sono le diverse svolte, sono state diverse svolte nella mobilitazione. Prima mobilitavano le persone che erano i riservisti dell'esercito, quando sono finiti questi hanno iniziato a mobilitare tutti, specialisti e non specialisti. Poi vi ho raccontato e vi ho fatto vedere, vi ho dimostrato con i documenti che in Ucraina hanno iniziato a mobilitare i disabili, le persone con delle malattie gravi, le donne. Di recente io ho condiviso un materiale riguardo alla mobilitazione di infanti orfani, tra l'altro io ho condiviso anche la foto di questi ragazzi che vengono prelevati dalle orfanotrofi, tra l'altro i più giovani hanno tra 14 e 15 anni. Qua veramente amici quello che viene in mente è la storia del crollo del Terzo Reich, quindi Hitlerjugend, questi ragazzini e ragazzine ai quali venivano forniti i caschi e i colpi anticarro e venivano mandati nelle strade di Berlino per sparare contro i carri armati sovietici. Ragazzini veramente di 13, 14, 15 anni fa parte della storia, la realtà storica, non è un'invenzione. Stessa cosa sta avvenendo adesso in Ucraina. In Ucraina negli orfanotrofi prelevano i ragazzi, ovviamente ragazzi giovani che non hanno la famiglia, nessuno piangerà per loro, nessuno si preoccupa per loro, nessuno andrà per loro manifestare per strada per riportarli a casa, vengono indottrinati, vengono trasformati nei soldati e mandati in prima linea. Ad esempio, un primo gruppo di questi ragazzi è stato già mandato nella zona di Arecava, nella zona, nella direzione di Zaporozzi. Ed è una cosa molto triste e molto grave, tra l'altro che accade in un paese del quale i nostri giornalisti, il nostro mainstream occidentale, i nostri opinionisti, intellettuali, scrittori, vari benpensanti continuano a parlare come di un paese di valori europei, paese democratico, paese completamente civile. Avvengono queste cose qua, le persone vengono catturate per strada, mandate in prima linea contro la loro volontà, vengono mandate in prima linea addirittura i disabili. Io l'altro giorno ho pubblicato l'ennesimo caso di arruolamento nell'esercito ucraino di una persona con disabilità, l'uomo non ha una gamba, le è stata amputata una gamba, è stato dichiarato idoneo per servizio militare, non le hanno dato invalidità, cioè se una persona in Ucraina manca una gamba non è invalido, lo chiamano con le capacità limitate, con le capacità fisiche limitate. È una bella definizione, un bel modo, un bel escamotage per mandare in prima linea chiunque. Quindi c'è, io ho pubblicato materiale su quest'uomo dove lui dimostra il documento con il quale lui è stato richiamato nell'esercito, senza una gamba, quindi una cosa veramente terribile. Se volete conferme, abbonatevi al mio canale privato Telegram, andate a cercare tra il materiale pubblicato qualche giorno fa, ho pubblicato questo materiale ed è veramente allucinante, amici. E ovviamente in tutta questa situazione però c'è un'altra svolta di mobilitazione ucraina, una svolta un po' come dire ironica e allo stesso tempo disperata. Adesso vi racconto perché. Tra l'altro per chi mi dirà, Nicolai sono tutte balle di propaganda russa, stai raccontando bagianate, perché non ci sono fonti, li stai inventando tu, queste storie le inventa Putin. Amici, adesso questa storia che vi sto raccontando è stata riportata sul giornale tedesco Bild, quindi andate a vedere nel mio Telegram privato, c'è un articolo della Bild che riporta questa notizia e che vi sto approfondendo qua. In pratica si tratta della mobilitazione dei gatti. Seriamente, non sto scherzando, è una cosa seria, in Ucraina il governo ucraino ha dichiarato, c'è un documento, c'è stato un documento, un ordine di mobilitare nell'esercito dei gatti. E' una cosa ovviamente allucinante, però è vera. Quindi ci sono le foto. La Bild condivide una foto di militari ucraini che vanno in giro per le città ucraine e in pratica sequestrano i gatti dalle case dei loro padroni, cioè se voi avete un gatto in Ucraina, vi bussano alla porta e vi dicono buongiorno, c'avete un gatto? E voi rispondete sì. Ecco il documento, noi arrolliamo il vostro gatto nell'esercito ucraino, datecelo qua, ci serve a noi. Ovviamente vi domandate ma a che cosa serviranno i gatti nell'esercito di Zelensky? Cosa succede? Zelensky è esagerato di nuovo con la cocaina, di nuovo si è drogato con qualche strana sostanza, ha visto, ha sentito qualcosa e quindi sta facendo gli ordini insensati. Invece no amici, il senso c'è. In pratica nelle prime linee dove gli ucraini scavano le trincee, siccome gli ucraini scavano trincee male e organizzano molto male la loro vita in prima linea, per una serie di motivi, ma soprattutto perché non sono militari professionisti, in differenza dei russi che ad esempio sono molto professionali nel fare le trincee, nel preparare i capisaldi, tra l'altro io sul mio canale Telegram ho condiviso già diverse interviste con militari ucraini nei quali stessi militari ucraini ammettono che le posizioni dei russi sono organizzati molto meglio, sono molto più pulite, sono protette dall'acqua, dal fango, da tutto schifo, hanno all'interno sistemi di riscaldamento e anche modi di arieggiare i loro trincee. Quello che ucraini non hanno possibilità di fare, perché non sanno, non conoscono, non sanno tecnologia. I russi usano molto il legno, le tecnologie che arrivano ancora dalla seconda guerra mondiale e costruiscono le trincee che sono molto comode per vivere. Per i militari è molto importante questo, quando dopo aver svolto il servizio di guardia nella prima linea, dopo aver combattuto, poter tornare, dormire nel comodo letto, caldo, poter lavare i propri vestiti, indossare i vestiti puliti, mangiare un cibo caldo, avere un meritato riposo in condizioni umane è molto importante per chi combatte. Gli ucraini non hanno queste possibilità, loro vivono veramente come degli animali all'interno di questi buchi scavati nella terra e ricoperti con materiale di fortuna, fanno fatica di cambiare vestiti, per questo si ammalano, ci sono situazioni molto gravi in prima linea, dei quali stessi ucraini raccontano, io ho condiviso diversi video dove ci sono questi racconti dei militari ucraini che parlano proprio di questo. Comunque uno dei problemi nelle trincee ucraine sono i topi, i roditori. Ci sono diversi tipi di topi, ci sono i topi tipo pantegane enormi, ci sono anche piccoli simpatici topolini di campo che in Russia li chiamano i topi di grano perché vivono molto nei granai, nei luoghi dove c'è grano o vivono anche nei campi di grano. Sono piccoli topolini, sono proprio questi che sono più pericolosi in realtà, perché loro sono tantissimi, loro riescono ad arrivare ovunque e ovviamente questi topi creano enormi danni. Da quanto raccontano i militari ucraini, questi piccoli topolini non solo mangiano il loro cibo, non solo distruggono i loro, diciamo, magazzini dove gli ucraini tengono le loro razioni K e così via. Questi topolini distruggono anche l'attrezzatura bellica. Così ad esempio altro giorno un militare ucraino ha raccontato che nelle loro posizioni in una sola notte i topi hanno fatto fuori tre mezzi corazzati. Come hanno fatto? I topi a quanto pare sono molto golosi di alcuni rivestiture dei cavi elettrici. Quindi loro rosicchiano questi cavi elettrici, ovviamente loro entrano ovunque nei mezzi, vanno anche nel motore dove fa più caldo e lì rosicchiano questi cavi. Una volta i cavi rosicchiati cominciano a contattare uno con l'altro, si bruciano le centraline, i mezzi non funzionano, i mezzi non partano. E la cosa più brutta è che bisogna cambiare, come dice il militare, non è che è un'interruzione in un posto, ci sono dei cavi totalmente distrutti, bisogna cambiare tutta impiantistica. Quindi tu ce l'hai un carro armato che non può svolgere le funzionalità perché tutto l'impianto elettrico è stato rosicchiato dai topi. Un'altra cosa che i militari ucraini di cui si lamentano è che ai topolini piacciono li elmi tattici, cioè i caschi. Adesso i caschi militari sono avvolti in un materiale che si chiama Kevlar e anche questi caschi all'interno hanno dei cavetti perché alcuni di questi caschi hanno dei sistemi di comunicazione, alcuni hanno delle videocamere, alcuni hanno dei sistemi legati alle cuffie, queste cuffie tattiche servono per abbassare il rumore del proprio fucile senza diciamo spegnere il rumore ambientale attorno. Tutti questi apparecchi ovviamente sono apparecchi elettronici e anche questi apparecchi elettronici hanno cavi e i topolini li mangiano. E poi ai topolini piace anche questo materiale Kevlar che rosicchiano con grande piacere. Inoltre a loro piacciono tutti i gancetti, tutte queste cose di cui sono fatti questi sistemi che si chiudono, che servono per fissare il casco addosso. Quindi questi militari dicono noi posiamo il casco e andiamo a dormire, ci svegliamo di mattina e abbiamo casco che non ha più il sistema di chiusura, cuffie non funzionano più, videocamera non funziona più e i topolini hanno distrutto tutto. Quindi i militari ucraini si sono lamentati ampiamente con il loro comando e a Kiev hanno deciso di arruolare nell'esercito i gatti per portare i gatti in prima linea e anche nei mezzi corazzati, quindi adesso ogni carroarmato ucraino oltre all'equipaggio umano avrà anche un gatto, funzionalità del quale sarà quello di catturare i topi. Bisogna vedere se i gatti saranno d'accordo con questa loro funzione, se loro vorranno rimanere in prima linea o diserteranno e torneranno a casa dei loro padroni dove loro mangiano crocchette, stanno bene, sono amati, sono abituati di stare nel proprio ambiente, però la cosa terribile è che anche in questo caso, in un caso molto ironico, ridicolo, satirico se vogliamo, umoristico, cioè immaginate i gatti arruolati nell'esercito, lì avviene per davvero, comunque si vede questa, io la chiamerei impronta dittatoriale di Zelensky e del potere di Zelensky, questi si sentono talmente padroni di tutto ciò che c'è nel paese che ormai per loro entrare in casa di un ucraino e portarli via tutto non presenta nessun problema, portano via marito, portano via figlio, portano via la macchina se serve, portano via i soldi e portano via pure il gatto, come qua si ricorda ovviamente quella frase di canzone di Fred Buscaglione quando lui diceva pure il gatto ha mai venduto, è questo che sta facendo l'esercito ucraino con i propri cittadini, adesso le portano via pure i gatti, pure i gatti sono arruolati nell'esercito ucraino, è una cosa allucinante cari amici, io nella mia vita ho vissuto molte cose, ho visto tante cose, ma una cosa del genere, un'idiozia così, non ancora, è la prima volta e quindi con grande piacere la condivido con voi, spero che questa notizia vi ha aiutato a capire ancora di più il senso di ciò che sta accadendo in Ucraina. Amici, con questo vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ricordo che se volete approfondire le notizie legate alla guerra, a ciò che succede nel mondo, tutte le notizie che vengono censurate, che vengono strumentalizzate oppure taciute dai medi italiani, potete abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per l'abbonamento si fa nella descrizione in questo video, l'abbonamento si fa in pochi secondi e potete accedere a una grande quantità dell'informazione che sicuramente vi sarà utile per creare la vostra opinione obiettiva su ciò che sta accadendo nel mondo e in particolare in quelle parti del mondo dei quali i nostri media occidentali, specialmente italiani, non vogliono parlare a noi, ai cittadini. Se volete sostenermi su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, di condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene. Grazie a tutti.